Villa Coloredo Mels conserva una collezione leopardiana non molto nota ma piuttosto importante. Qui ci troviamo nella sala dei ritratti della famiglia Leopardi. Sono opere realizzate alla metà degli anni 60 dell'Ottocento su commissione di Carlo Leopardi, fratello amatissimo di Giacomo. Il pittore che li ha realizzati è un famoso ritrattista anconetano Giovanni Gallucci. In particolare il ritratto di Giacomo venne eseguito sullo schizzo che il pittore Luigi Lolli realizzò a Bologna nel 1826. In questa sala è esposto anche un altro ritratto di Giacomo Leopardi, di Luigi Ciaranfi. È un ritratto in realtà realizzato sul calco funerario che Antonio Ranieri fece eseguire al momento della morte di Leopardi il 14 giugno del 1837. Questo ritratto di Paolina Leopardi la ritrae in una delle fasi più felici della sua vita, quella in cui nell'ultimo decennio, negli anni 60 dell'Ottocento, si dedica a molti viaggi, viaggi in Italia che la portano a visitare le città in cui anche Giacomo aveva vissuto nella sua breve vita. Oltre alla sezione iconografica, la collezione del comune di Recanati conserva numerosi documenti, libri, manoscritti, anche di lettere inviate da Giacomo alla famiglia e a importanti personaggi dell'epoca. Il nucleo di materiali che l'editore Le Mognier cedette nel 1881 al comune di Recanati è relativo all'edizione delle opere complete di Leopardi che fu avviata nel 1845 da Antonio Ranieri con i canti e le operette morali. Nelle bacheche di Villa Coloredo Mels si trova esposto il bellissimo manoscritto del saggio sopra gli errori popolari degli antichi. Un secondo nucleo della collezione del comune di Recanati è significativo dal punto di vista documentale. Si ricollega direttamente all'esposizione leopardiana che ebbe luogo a Recanati nel palazzo comunale dal 29 giugno al 20 settembre del 1898 in occasione delle celebrazioni del primo centenario della nascita del poeta. Gli scritti e le memorie di Leopardi presentati al pubblico erano stati reperiti nella biblioteca nazionale e tra i privati con un'apposita ricerca. Molti furono gli acquisti e anche i lasciti al comune tra cui quelli assai preziosi del senatore Filippo Mariotti che con Giovanni Mestica e Giosuè Carducci aveva promosso l'azione di esproprio delle carte leopardiane possedute da Ranieri e rimaste alla sua morte nella disponibilità di due ignare domestiche. Faceva parte di questa eredità di Ranieri anche il manoscritto dello Zibaldone che poté così essere salvato da dispersione quasi certa. Ma ci sono anche lettere familiari scritte lontano da Recanati come quella del 7 luglio 1833 al padre mentre Leopardi si trovava in condizioni di salute molto difficili.